ed era tutto in quei pochi istanti che non spero di cercarsi Tempo reale l'informazione in diretta della provincia di Rimini Tempo reale Buongiorno, bentrovati 29 novembre e oggi andiamo in ferie Buongiorno caro Andrea Certo che interrompere l'Ud Vabbè l'Ud, scusa così impara a fare la pubblicità a Sky che è una nostra diretta concorrente Esatto, esatto Ma non fa la pubblicità a un telefono? No, fa la pubblicità al connessione La connessione Poi casa sua diventa un palco un po' come noi Noi in realtà siamo a casa e diventa l'Ud A breve partirà anche Icaro Wi-Fi Icaro Wi-Fi La connessione che vi prende solo in bagno è una connessione particolare Se volete stare anche con la maniera alzata Buongiorno a tutti voi che ci seguite è mercoledì, lo ha già detto Andrea è una bella giornata di sole per cui diciamo che anche questo io sono queste giornate di autunno E come comincia? Mi piacciono tanto queste giornate di autunno perché è quella temperatura ancora gradevole c'è il sole però è freschino mi piace mi piace c'è già il clima natalizio In latino come la diresti questa cosa? In che senso? Non so Tu hai sempre una frase latina per ogni occasione Ci penso Bella questa cosa che mi hai chiesto Allora se avete una frase che dica di questa giornata lo potete scrivere quindi ci aiutate che sia latino che sia una qualsiasi altra lingua che sia semplicemente il nostro meraviglioso italiano 337 511 336 questo è il numero per raggiungerci attraverso sms e whatsapp e poi abbiamo la nostra pagina facebook di tempo reale siamo già operativi già se siete insomma nostri follower Infatti ti avevano già due tazzine del caffè Oh molto bene che era il buongiorno ragazzi quindi forse una è per me e il buongiorno di Walter mentre al 337 511 336 ci arrivano i consueti saluti di Lella che ci dà anche il suo menù del giorno pesce fritto in pescheria la Lella si riposa buona giornata a tutti Mi piace il pesce fritto in pescheria brava Lella ogni tanto bisogna farsi qualche cocco andiamo ancora anche noi andiamo anche noi in pescheria tutti insieme bene siamo pronti a partire e anche per questa giornata per cui partiamo partiamo raccontando un po' quello che è avvenuto nella giornata di ieri io direi forse Andrea la cosa migliore è partire dall'ultimo saluto che è stato dato al tenente colonnello tenente russo Roberto Russo ieri c'è stata questa cerimonia anche molto sentita molto partecipata per noi c'era Maurizio Ceccarini in Basilica Cattedrale credo che sia anche un omaggio bello che è stato fatto ad una persona che nel suo ruolo anche istituzionale ha sempre mostrato una grande attaccamento a questo luogo che gli era stato affidato perché poi lui veniva da lontano aveva già fatto tante esperienze nel suo lavoro purtroppo questo decesso avvenuto in mare ancora così incomprensibile perché poi queste morti così improvvise restano davvero incomprensibili una persona giovane 40 anni piena di vita piena di interessi amante anche degli sport come il kite surf appunto il suo corpo è stato trovato già diciamo vicino proprio agli ultimi efflati di vita perché purtroppo non c'è stato nulla da fare ieri c'è stato l'ultimo saluto presenti anche il fratello e la mamma di Roberto Russo è stata ufficiata questa celebrazione dalla vescovo Niccolò Anselmi e c'è stato anche un bel ricordo e sicuramente lo sentiremo nel servizio da parte del comandante insomma anche vedere questi alti ufficiali che sono abituati un po' a tutto che hanno fatto tante imprese anche invece vedere come nelle relazioni e per loro davvero in questo caso il gruppo delle fiamme gialle è un po' come una grande famiglia allora andiamo proprio con queste immagini e con il servizio di Maurizio in Basilica Cattedrale era già stata decisa la sua permanenza a Rimini fino a giugno 2025 per concludere indagini in corso e avviarne altre alla luce del lavoro e degli risultati che aveva conseguito nei suoi tre anni di servizio riminesi risultati che però lui amava attribuire al lavoro di squadra è uno dei ricordi del tenente colonnello Roberto Russo emersi nel funerale in Basilica Cattedrale davanti alle fiamme gialle riminesi al completo ma anche a rappresentanti di istituzioni delle altre forze dell'ordine e conoscenti che hanno voluto salutare il comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria di Rimini scomparso sabato sera presenti la madre e il fratello Russo aveva già perso invece il padre che ora ha raggiunto in cielo come ha sottolineato il vescovo i frutti di quello che facciamo rimangono anche dopo di noi ha detto Monsignor Anselmi ringraziando poi attraverso la figura di Roberto tutti coloro che si impegnano per il bene pubblico a ricordare Russo al termine della celebrazione è stata Elisabetta Melotti procuratore capo di Rimini che ha letto anche un messaggio dell'ex PM Paolo Gengarelli oggi in pensione che ha collaborato a importanti indagini con Russo a partire dall'operazione free credit che ha avuto risalto nazionale e che ha portato anche a modificare le leggi poi il comandante provinciale della guardia di finanza Alessandro Coscarelli di cui Russo era il vice che si è commosso ricordando l'ordine che idealmente ha rivolto di continuo da sabato pomeriggio al suo stretto collaboratore tenente colonnello Russo non sei autorizzato ad andare ti obbio di rimanere qui con noi questo obbio sabato pomeriggio l'ho parlato più volte nell'avviamento ogni volta dopo aver parlato con un medico con un collega il quadro clinico continuava a dipingersi inesorabilmente con tinte sempre più sposti fino ad assumere l'aspetto finale che vediamo oggi a tutti i militari del gruppo di polizia economica finanziaria di Rimini che hanno avuto l'onore di averlo come comandante e con loro a tutte le mie amanti fiammeggiate del comando provinciale l'esortazione per adeguire e svolgere il servizio nel solco dall'ultracciato mi spingo in un abbraccio forte commosso a mamma Teresa e al fratello Giuseppe al nome della grande famiglia che li diamo già mamma tu hai perso un figlio noi un fratello grazie a tutti e credo ci sia poco da aggiungere sì assolutamente le parole sono state sono sì ci dicono anche proprio di una noi spesso vediamo queste queste persone indivisa anche nella nostra vita quotidiana un po' distanti quasi un po' impauriti quando li incontriamo invece poi in queste forse in queste situazioni si legge anche la tanta umanità le persone insomma che vestono quella divisa per cui ringraziamo anche proprio il comandante di avere voluto condividere anche con un'assemblea pubblica quindi durante una celebrazione che comunque ha avuto questo impatto anche mediatico queste parole questo ricordo di Roberto Russo anche noi lo ricordiamo in tante occasioni insomma dicevamo anche proprio nei giorni scorsi quando abbiamo preso questa notizia andando in guardia di finanza tra l'altro insomma poi la guardia di finanza segue anche delle operazioni sempre molto complesse non facili da raccontare in modo semplice perché spesso sono molto articolate anche nella loro composizione e lui aveva sempre questa capacità di provare a semplificare un po' a sbriciolare queste questioni così complesse da raccontare per cui insomma anche noi abbiamo un bellissimo ricordo di Roberto Russo qualche altro saluto diamo il buongiorno anche a Lucy anche lei con tazzina di caffè e l'albero di Natale buongiorno a Gianni a Cinzia a Sabrina a Mauro che dice un saluto da chi vi guarda sempre il pomeriggio perché ricordiamo allora Mauro buon pomeriggio noi ci siamo battuti estremamente per non togliere la replica pomeridiana perché era l'inizio per togliere le definiti in realtà si Andrea siccome pensavamo di cambiare cioè non fare più la diretta la mattina mettere la replica del giorno e andare in diretta il pomeriggio dalle 2 alle 3 potrebbe essere in realtà si sta anche avvicinando il periodo che tu dicevi quello della lotteria di tempo reale è vero che non c'è niente poi ci saranno solo dei premi e noi sorteggeremo non bisogna fare niente non bisogna fare niente facciamo tutto noi solo telefonarci esatto ma vi diremo poi e vi daremo poi tutti i dettagli diamo il buongiorno poi anche a Sonia mentre al 337 511 336 ci arriva non il buongiorno ma il buongiornissimo di Nunzio che noi contraccambiamo quanti bei saluti grazie vedi che il sole di questa mattina aiuta anche ai nostri amici lo so anche altri magari al desiderio di scriverci e di raccontarci un po' qual è la loro mattinata allora io adesso entrerò a gamba tesa su questa polemica che è scoppiata ieri dopo un post del consigliere di Fratelli d'Italia a Rimini Carlo Rufospina un post corredato da alcune immagini con una carroattrezzi che sta caricando sta caricando un veicolo parcheggiato in pieno centro storico in via Bufalini siamo in questo caso che è una traversa del corso d'Augusto sembra una 500 la sta caricando perché è parcheggiata vicino in zona bidoni diciamo così bidoni dell'immondizia che nel centro storico è strano ma ancora ci sono quelli grossi quasi in tutta la città c'è il porta a porta in centro storico ancora fanno bella mostra di sé questi questi bei bidoni salvi in alcuni luoghi dove sono stati interrati diciamo c'è stato anche questo sistema venga fatto un po' ovunque perché sicuramente non sono un bel vedere e diciamo che questa beh a di là che insomma l'automobile non era parcheggiata in uno stallo ecco nel senso l'automobile non è parcheggiata in uno stallo quindi è parcheggiata in una zona dove si vede bene anche nell'immagine il divieto di sosta benché sia una zona dove di fatto non ci siano c'è il divieto di sosta ma non dia impedimenti anche all'attività di chi va a svuotare i bidoni e il consigliere di Fratelli d'Italia Carlo Rufo Spina pubblicando questa foto c'è altro rimosso anche uno scooter lamenta un accanimento dell'amministrazione comunale diciamo che non è una battaglia che cavalca per la prima volta il consigliere Spina nei confronti dei residenti in centro diciamo che è un tema che è emerso più volte quando si è andati a definire anche le ZTL del centro la pedonalizzazione di piazza Malatesta e quant'altro tra l'altro il consigliere Spina annuncia anche la volontà di approfondire il tema in commissione consigliare soprattutto dice quando i veicoli non recano disturbo lui dice un sopruso infinito inaccettabile sempre ai danni dei residenti in punti cui i auto e scooter non danno fastidio a nessuno non solo la multa ma anche la rimozione forzata peraltro la seconda volta a solo due giorni di distanza dall'ultima inaccettabile è vero che due volte la macchina portata via scoccia però se due volte la riparcheggi dove non si può parcheggiare insomma è una questione aperta che non pensiamo sia la sua di automobile penso sia di un residente tra l'altro si battaglia con era leggevo sui quotidiani anche in ogni caso lui essendo presidente di preva commissione annuncia appunto la volontà di convocare una commissione su questa tematica legata al centro storico e insomma i commenti a questa esternazione del consigliere Spina diciamo che mentre spesso quando si parla di parcheggi in centro mancano spesso anche i consiglieri di minoranza raccolgono fanno bella massa critica da parte dei chissarini in questo caso invece abbiamo visto almeno a commento della notizia da noi postata sui nostri social manca una mail c'è arrivata invece una posizione piuttosto critica nei confronti di questa uscita del consigliere Spina però insomma vedremo poi se sarà convocata con tutto il bene però il fatto di dire non c'è nessun impedimento sai quante volte nella nostra testa parcheggiamo in un posto ma qui ci si passa tranquillamente le persone vanno cioè il problema è che se non si può parcheggiare in quel posto anche se non dà fastidio magari se le avessi fatte io le regole parlo di me io lì avrei messo un bello stallo perché lì una macchina ci stava proprio bene oppure due o tre parcheggi degli scooter che effettivamente mancano in centro storico bene allora si lavora su questo non tanto sul fatto che non si debba uno può prendere la vernice spray e fare uno stallo no non credo non credo sulla Riccione c'era una sindaca che aveva cambiato le righe azzurre in righe bianche con stalli che diventavano gratuiti ma questo subito dopo il voto perché è una promessa elettorale però sto parlando di stalli è l'unica cosa che mi viene in mente legata però il problema è che ci sono le regole e quindi poi quando uno si espone come nel caso del consigliere Rufus Fina poi chiaramente in commissione insieme valuteranno anche tutte le ipotesi eventualmente per aumentare il numero dei parcheggi però evidentemente si parte da una posizione scorretta cioè avere messo l'automobile dove non si poteva parcheggiare non dà fastidio ma questo non è le regole cioè il fatto che non dia fastidio è una cosa poi è evidente che se in quel momento non passa la pattuglia non c'è nessuno che sta facendo dei controlli e nessuno fa una segnalazione perché non è infastidente è chiaro che se ti parcheggiano davanti a casa che se ti parcheggiano in uno stallo per disabili se parcheggiano in un marciapiede dove magari sta passando una carrozzina che non riesce appunto ad attraversare è evidente che è diverso però resta che la multa e anche l'esportazione dell'automobile era la legge fai da te non esiste no non esiste puoi avere anche a livello teorico ragione ma se c'è un cartello che dice il contrario tu sei sempre nel torto assolutamente detto questo noi restiamo un attimo visto che Carlo Rufospina consigliere di Fratelli d'Italia domenica Fratelli d'Italia va a congresso a livello locale e c'è un unico candidato quindi diciamo che il nuovo commissario provinciale sarà il consigliere attualmente consigliere comunale che poi rivestirà anche questa carica ma abbiamo sentito non c'è incompatibilità tra il ruolo di consigliere e quello di rappresentante del partito a livello provinciale perché anche a Riccione è successa più o meno la stessa cosa sarà Nicola Marcello si pensava ci potesse essere una battaglia tra virgolette con quello che è stato vice commissario ma di fatto visto che la commissaria era di Torino la Montaruli onorevole quindi di fatto a gestire il locale è sempre stato Filippo Zilli che si era anche dimesso recentemente dal consiglio comunale tutto lasciava pensare che ci potesse essere una sua candidatura lui oggi rilasciando un'intervista al resto del carino dice sì molti me l'hanno chiesto ma ho preferito evitare che ci fossero battaglie e spaccature all'interno del partito e quindi ci sarà un unico candidato quindi né Gioenzo Renzi né Filippo Zilli candidato unico e quindi prossimo poi ci sarà ufficialmente l'investitura domenica commissario provinciale di Fratelli d'Italia in provincia di Rimini sarà Nicola Marcello che tra l'altro in Fratelli d'Italia è entrato da un paio d'anni credo prima della tornata elettorale del 2021 beh direi che in questo momento è sicuramente un partito importante Fratelli d'Italia insomma anche con l'imprendo a livello nazionale sicuramente anche a livello locale anche questo è un momento importante resta da capire se cosa c'è dietro la scelta di Zilli perché insomma consigliere comunale però ti dimetti quindi si pensa che tu poi invece non si candida neanche lì ma il voto a livello riminese ancora dista tanto perché insomma siamo a metà legislatura più o meno ci sono le regionali che non distano più di tanto invece perché ricordiamo che si andò a votare nel gennaio se non sbaglio del 2020 sì sì mi ricordo che la giunta entrò praticamente per cominciare a trattare la questione covid e quindi diciamo che in questo caso manca poco più di un anno alla termine hai perfettamente ragione chissà potrebbe essere una buona intuizione a proposito di Fratelli d'Italia allora rimaniamo in tema perché questa mattina apprendiamo dalle pagine dei quotidiani intanto salutiamo anche Giorgio che ci saluta in Zir per la Romagna quindi ha visto la bella giornata di sola ha inforcato la bicicletta l'ho detto io quindi cos'è con le cuffette che ci sta salutando Giorgio stai attento parliamo di Beatriz Colombo quindi io l'ho letto sulle pagine del Carlino non so se anche il Corriere solo sul Carlino bene perché Beatriz Colombo ricordiamo onorevole deputata di Fratelli d'Italia avriccionese sedeva anche tra i banchi del Consiglio Comunale questa sera sarà il Consiglio Comunale il primo dopo il rientro della Giunta Angelini nel quale sarà ufficializzato lo switch vale a dire entrerà al posto della Colombo visto che le cariche elettive non sono insomma Fratelli d'Italia non vuole che si uniscano uniscano non vengono le parole queste cariche elettive quindi Colombo si è dimessa lasciando il posto a Paolini esatto e quindi questa mattina sera ci sarà il match come si suol dire lo switch allora però su Beatriz Colombo c'è una piccola nube non su di lei insomma persona assolutamente gradevole ricordiamo che lei era stata candidata ma non nei collegi della nostra provincia esatto era uno di quei nomi che solitamente vengono inseriti per completare i listini quindi non si anche lei inizialmente pensava di avere poche possibilità poi le elezioni sono andate come sono andate Fratelli d'Italia ha avuto un grandissimo esploare le urne e quindi anche il suo nome che era il quarto in questo listino grazie al fatto che se non sbaglio Alice Bonguerrieri aveva vinto l'uninominale ed era la terza nel listino quindi lei la Bonguerriere è stata eletta tramite l'uninominale e si è liberato un posto per la quarta nel listino Beatriz Colombo in effetti questo poi tra l'altro era stata l'unica lei anche ad attendere un po' di poter sia lei in realtà che anche la senatrice Spinelli avevano atteso rispetto agli altri che erano già certi di questa elezione qualche momento perché volevano essere sicure poi era arrivata per entrambe questa importante opportunità che rappresenta anche un'importante opportunità per il nostro territorio avere tanti parlamentari comunque a Roma che cosa succede proprio per questa situazione che riguarda Alice Buonguerrieri che dicevi appunto essendo stata eletta all'uninominale al posto cioè prevalendo su Baccali però per soli 49 voti e insomma è stato richiesto un riconteggio noi a Ricciore ci siamo abituatissimi e quindi cosa potrebbe accadere che se questo riconteggio delle nulle delle schede bianche eccetera eccetera darà un esito diverso e quindi non ci sarà questa ci sarà insomma la vittoria di Baccali sulla Buonguerrieri la Buonguerrieri rimane dentro rimanerebbe dentro però tramite il listino plurinominale e verrebbe quindi estromessa la Colombo però insomma è ancora tutto un ragionamento per ipotesi bisogna vedere se effettivamente questi 49 voti o 20 o 10 perché sappiamo insomma che anche un voto può fare la differenza in questo caso saranno confermati oppure no comunque Beatriz Colombo questa mattina appunto arresto del Carlino dà questo suo commendo sono tranquilla sul riconteggio e ottimista come sempre tra l'altro proprio sul tema che dicevi prima delle cariche doppie ricordiamo che Beatriz Colombo aveva ipotizzato nel momento in cui aveva detto che lei sarebbe uscita dal consiglio comunale che Stefano Paolini entrando in consiglio comunale non sarebbe stato più commissario comunale di Fratelli d'Italia quindi con un ruolo più rappresentativo del partito in realtà Paolini proprio perché non c'è una contrapposizione tra questi due tipi di cariche ha deciso di rimanere al suo posto quindi comunque Paolini pur entrando in consiglio comunale come consigliere rimane anche al suo posto come coordinatore del partito anche se poi anche dopo la definizione dei congressi con i nuovi commissari provinciali a cascata arriveranno anche le decisioni sui singoli comuni quindi bisognerà vedere se questa è la situazione attuale ma se sarà confermata anche nei prossimi nei prossimi mesi a questo punto io invece andrei a parlare di sanità non stavo facendo nulla fai facce non faccio facce tu fai facce no è Andrea Polazzi che fa facce no io ho anche una pagina a me dedicata ma non è più aggiornata perché il mio fan club ha deciso di smetterla le facce sono finite la sanità privata accreditata dell'Emilia Romagna è sul piede di guerra il taglio delle tariffe per le prestazioni sanitarie previsto appunto da una delibera regionale che applica sul territorio quanto previsto a livello governativo ricordiamolo però la regione lo ha fatto per prima in sostanza e i rappresentanti della sanità privata quella accreditata quindi quella che di fatto lavora nell'ambito anche del sistema sanitario pubblico teme che ci possano essere serie ripercussioni sulle prestazioni ma anche sulla presenza e sulla permanenza stessa dei medici sul territorio allora sentiamo questo servizio che fa seguito a una conferenza stampa che si è tenuta nei giorni scorsi poi di rientro anche un commento che arriva dall'assessore comunale alle politiche sanitarie Cristian Gianfreda ogni anno in Emilia Romagna le strutture private accreditate erogano 4 milioni circa di prestazioni sanitarie con tariffe ferme ormai da 27 anni dal primo gennaio però queste tariffe saranno ritoccate non al rialzo ma con cali consistenti e non è una buona notizia per i cittadini perché questa diminuzione metterà a rischio un milione di prestazioni come TAC e risonanze a lanciare il grido d'allarme sono IOP e ANISAP che rappresentano l'ospedalità privata e le istituzioni sanitarie e ambulatoriali private le due associazioni regionali puntano il dito sulla delibera adottata dall'Emilia Romagna lo scorso 23 ottobre prima in Italia poi seguita dal Lazio per adeguarsi al decreto ministeriale per contenere i costi della sanità alcune regioni come il Veneto hanno prorogato quelle vecchie di altri sei mesi in attesa che si risolva l'impasse ma il rischio resta serio perché evidenziano le associazioni se le cose non cambieranno molti medici potrebbero spostarsi fuori dall'Emilia Romagna per non parlare dell'allungamento delle liste d'attesa è bene ricordare che il privato accreditato lavora in sinergia con le ASL erogando prestazioni in rapporto diretto col CUP dietro al pagamento del solo ticket se dovuto come un qualsiasi ospedale il nuovo tariffario prevede ad esempio per le visite specialistiche l'erogazione di un importo che vale ai 23-18 euro lordi e un calo delle attuali tariffe per risonanze TAC e diagnostica per immagini fino al 30-35% IOP e Anisap auspicano di ricucire lo strappo con la regione con cui non più tardi della primavera scorsa avranno sottoscritto un protocollo d'intesa da 330 milioni di euro con un taglio di 30 milioni rispetto al 2022 a carico proprio dei privati per garantire 4.800 posti letto dell'ospedalità privata convenzionata e 8.500 posti di lavoro ma sul piatto c'è anche un ricorso presentato al Tar del Lazio da Feder Anisap con la richiesta di sospensiva del provvedimento del governo Meloni e diciamo che questo è un provvedimento prima nazionale e poi regionale che mette anche preoccupazione agli enti locali sappiamo che la sanità non sta vivendo un momento semplice anche nella nostra regione abbiamo detto più volte del problema legato alle liste d'attesa questa riforma dell'emergenza per cercare di far quadrare i conti con una coperta che è sempre corta dal punto di vista anche del personale medico e infermieristico e insomma questo rischio che in effetti le liste d'attesa sulle quali tanto si cerca di lavorare possano magari allungarsi proprio perché c'è un taglio di tariffe e la sanità privata non riesce più a gestirle parliamo comunque sempre di privato mi sembra un po' di privato accreditato sai quando tiri un po' la corda per provare parliamo sempre di privato accreditato quindi vuol dire quel privato che per il cittadino non pesa più del pubblico perché si paga col ticket e diciamo che da solo un aiuto è una sorta di aiuto per il pubblico vero e proprio l'assessore Gianfreda dice insomma che si sta seguendo con attenzione questa vicenda e si è anche chiesta un'interlocuzione con la regione per approfondire e capire meglio le conseguenze di questa rimodulazione tariffaria fa presente come proprio il privato accreditato di una grossa mano al pubblico nella gestione di tante tipologie di prestazioni e a vedere sul nostro territorio ci sono delle cliniche private accreditate molte delle quali tra l'altro rappresentate dalle associazioni che hanno convocato questa conferenza stampa poi ovviamente Gianfreda dice di essere completamente fiducioso sull'impegno della regione dicendo insomma che la regione si è sempre spesa molto per la sanità che la regione Emilia Romagna ha una sanità eccellente quindi dice siamo certi che verrà trovato una soluzione per sostenere le cliniche private convenzionate le quali operano a favore di un sistema nazionale sanitario ampliato e non in chiave solipsistica solipsistica che io non so cosa vuol dire non sai cosa vuol dire? allora Andrea vai a cercare adesso lo cerco il solipsismo è una effettivamente è una parola anche io ieri quando l'ho letto caspita Christian Gianfreda a livello anche filosofico mi snocciola delle parole molto molto importanti Google se io ti metto solipsistico e tu mi dici aggettivo proprio del solipsismo non è che mi aiuti che devi andare a cercare il solipsismo cosa si intende per? ma io più che altro perché tutti sanno atteggiamento di chi risolve ogni realtà in sé medesimo ebbe per forza o dal punto di vista pratico però parliamo si poteva dire in maniera più semplice? no cioè invece secondo me ogni tanto si capiva no? anche dal contesto così tu impari una parola nuova io sono per parlare come se magna tu non sei solipsistico ma noi mangiamo anche così ma perché? ma perché invece quando tu mangi qualcosa di prestigioso non so che tu stai facendo cose più importanti ma solipsistico è una parola che tu usi abitualmente anche lui deve andare a cercare vedi? è bello poter cercare è bello poter imparare qualcosa di nuovo ogni giorno io ad esempio le giornate in cui ho imparato qualcosa di nuovo ne sono sempre molto felice tipo quando mi insegnate una nuova tecnologia che usiamo in questa struttura che magari voi sapete utilizzare già da un sacco di tempo oppure imparo dei nuovi cioè io sono sempre molto felice allora a proposito anche perché ti insegniamo le stesse cose ogni settimana poi te le ridimentichi quindi non è che impari cose nuove a ripassi quelle vecchie a ripassi quelle vecchie che però non ricordi quindi per me sono come se non fossero nuove allora a proposito di Christian Gianfreda e a proposito del tema sanitario aggiungo questo aspetto che a mio avviso è interessante di questo articolo che poi trovate anche nel dettaglio sul nostro sito che riguarda il bonus psicologo è stata fatta una campagna anche in particolare proprio nel nostro territorio perché ci fossero dei fondi destinati ai ragazzi in particolare agli adolescenti ma anche a caregiver che potessero utilizzare un bonus una cifra che arriva a 1200 euro quindi comunque una cifra anche importante proprio per avviare un percorso di sostegno in caso di disagio psicologico stress, ansia sappiamo anche quanto il covid abbia influito sui nostri ragazzi e siano tante le famiglie che non sono in grado di sostenere un accompagnamento di un figlio anche in un percorso di questo tipo per problematiche economiche ecco che il comune ieri ha dato i dati proprio relativi a questo bonus che c'era che era stato attivato e sono state 36 le domande che si è riusciti a corrispondere non so quante ne fossero arrivate questo non c'è scritto quindi in realtà non sappiamo se è un numero buono oppure sono stati tanti quelli che sono rimasti fuori diciamo che di questo numero di questi 36 33 sono adolescenti quindi sono under 18 che grazie a questa occasione sono riusciti anche magari a affrontare il loro disagio insieme ad un professionista quindi bene bene per chiudere ci voleva per mettere i propri punti pensare che c'ho anche la mia caramellina sedativa tu prima hai parlato di Riccione e noi non abbiamo detto una cosa ora questa sera si riunisce per la prima volta dopo tanti mesi dal mese di maggio dal fine di maggio il consiglio comunale di Riccione non si riuniva questa sera tornerà a farlo alle 20 e quindi c'è anche un po' di attesa per questa macchina che si rimette in moto però non avevamo detto che nel disegno di bilancio che adesso inizia tutto il suo iter di consultazione sia politico che con le parti sociali c'è e credo che farà alquanto discutere tra le varie cose la reintroduzione della addizionale IRPEF che era stata tolta nel 2017 dall'amministrazione Tosi ma insomma vedremo se poi ci sarà già modo questa sera di affrontare questa tematica se sarà affrontata in consiglio comunale questa sera sia consiglio comunale a Riccione sia consiglio comunale a Rimini ma è un tour de force per tutte le amministrazioni visto che ci sono tante delibere che vanno approvate entro il finire di quest'anno che a fine anno ci sono tante sedute tanti consigli tra l'altro noi questa sera alle 23.20 trasmetteremo la sintesi del consiglio comunale di Rimini della scorsa settimana in questo caso insomma sono state varie le delibere approvate ma ci soffermeremo sulla parte che ha preceduto il consiglio quella dedicata alla tematica della violenza sulle donne al contrasto tra l'altro con l'intervento del procuratore del tribunale di Rimini Elisabetta Melotti ci sarà la direttrice del pronto soccorso di Rimini Perin quindi anche una visione allargata sul tema della violenza donna e su come purtroppo anche sul territorio riminese ci siano numeri che non diminuiscono tra l'altro guarda Andrea su questo credo che sia una notizia importante da dare noi non abbiamo non siamo riusciti a partecipare personalmente ma anche al pronto soccorso di Rimini è stata inaugurata proprio nei giorni scorsi nelle giornate insomma in cui si è parato tanto e si è confrontati sono fatte anche azioni concrete proprio sul tema della violenza una stanza per le donne che arrivano e che si coglie arrivino in pronto soccorso per dei maltrattamenti per delle violenze per le botte che hanno preso e quindi ci sarà una stanza dedicata a questo credo che sia prezioso perché sappiamo tante volte quante persone ci sono in pronto soccorso quanto anche il triage quando ti chiedono che cosa è successo possa essere un momento delicato fatto magari in una situazione non protetta ecco io credo che questo sia molto importante perché raccontare anche di una situazione di violenza e sappiamo che spesso è proprio quando si va in pronto soccorso che i sanitari si rendono conto magari aiutano una donna anche ad andare un po' al di là magari di quella scusa che trova sono caduta mi sono fatta male da sola e allora ecco io penso che sia importante invece tornando al tema dei bilanci varie tasse che aumentano anche Cattolica ha deciso come in precedenza ha fatto anche da Rimini di ritoccare la tassa di soggiorno 50 centesimi 50 centesimi di aumento ma con una destinazione ben specifica vale a dire la manutenzione di strade e verde proprio così si manutenzione strade e verde perché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade è molto importante quindi utilizzeremo questi soldi in più che arriveranno dall'introito della tassa di soggiorno proprio per questo tema cioè miglioriamo le strade di Cattolica andiamo a raccontare una storia adesso la storia delle due gemelle cinesi arrivate in Italia l'ha raccontata Stefano Rossini ieri senza conoscere una parola di italiano e del loro percorso scolastico arrivato alla laurea che è stata resa nota poi nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale di Rimini è una delle tante storie che sono passate dalla scuola di italiano della casa dell'intercultura sentiamo 29 corsi quasi 1500 ore di lezione di italiano alfabetizzazione digitale e tante altre attività per aiutare ragazzi e adulti arrivati in Italia a imparare la lingua ed essere autonomi è il lavoro della scuola di italiano che si svolge con l'aiuto di tanti volontari alla casa dell'intercultura e lancurdi grazie all'associazione arcobaleno noi siamo un po' spesso il primo punto di approdio in cui le persone iniziano il loro percorso di acquisizione della lingua quindi sia per i ragazzini e per i bambini ma anche per gli adulti i dati relativi all'anno diciamo all'ultimo anno scolastico quindi l'anno scolastico 22-23 ha visto più di 600 iscritti le persone presenti provengono in particolare da da Ucraina e questo lo possiamo immaginare perché insomma conosciamo tutti la situazione da Perù dal Marocco e da Iran la nostra associazione è un'associazione di volontariato quindi ci sono tanti volontari che prestano servizio all'interno delle attività didattiche quello che poi cerchiamo di fare è anche in base a quelli che sono i bisogni che ci segnalano cerchiamo di capire come poter rispondere a questi bisogni ad esempio quest'anno abbiamo fatto un piccolo corso di un breve corso per la patente ovviamente non sostituisce l'iscrizione alla scuola guida è semplicemente propedeutico poi a poter riuscire a seguire meglio il corso a scuola guida quindi proprio per lavorare anche su quello che è tutto il percorso per rendersi più autonomi sul territorio bello bello sicuramente queste esperienze anche di integrazione che passano e lo sappiamo bene proprio dalla cultura dalla conoscenza dall'imparare una lingua sicuramente la storia di queste due ragazze cinesi è esemplificativa perché è stata un'integrazione come si suol dire che ha funzionato molto molto bene sarebbe bello non dover come posso dire cioè non dover parlare di queste storie perché perché sono la quotidianità perché lo stare insieme perché nella diversità incontriamo l'altro impariamo qualcosa e insieme poi costruiamo anche il futuro dei nostri territori ma mi sembra un po' utopico questa questa ipotesi parlavamo di Riccione prima e arrivano i comunicati da Riccione si vede che tu li evochi li evoco sì tra l'altro mi portano al porto ci sono passata ieri sera e hai visto niente? no beh perché non eri attenta la giunta comunale di Riccione ha approvato la fattibilità delle alternative progettuali quindi ci sono alternative ci sono alternative progettuali del progetto di riqualificazione green del porto canale e riconnessione agli elementi naturali esistenti lungo il rio Melo assieme al progetto sono stati approvati i documenti per la partecipazione al bando regionale per la progettazione e realizzazione di infrastrutture verdi e blu in aree urbane e peri urbane che prevede 18 milioni di distanziamento complessivo fino a lavoro entro il 30 giugno 2026 e che è una data che mi ricorda anche a me qualcosa e quindi insomma l'amministrazione cerca di intercettare delle risorse l'amministrazione riccionese per mettere mano al porto sappiamo che in parte la riqualificazione è già partita in questo caso si prevede anche la riconnessione agli elementi naturali lungo il rio Melo l'assessore Andruccioli dice il territorio urbanizzato deve essere reso resiliente ai cambiamenti climatici quindi più alberi meno energia carbonica l'assessore dei lavori pubblici Imola dice avanti con la riqualificazione nel tratto tra Viale Danti e i laghetti e il cobaleno e poi una nuova pista ciclabile immersa nel verde poi ovviamente il comunicato è molto più dettagliato in ogni caso siamo al fattibilità che non è la progettazione io ricordo che anche l'amministrazione Tosi aveva presentato un progetto di fattibilità addirittura per deviare una parte c'è sempre il tema del rio Melo e del rio Marano la preoccupazione appunto in caso di eventi estremi anche di esondazioni e quindi c'era tutto un progetto immagino che quello della nuova amministrazione sia diverso però comunque non si parla qui in questo caso solo del porto canale inteso l'ultimo tratto quello appunto vicino al mare ma di tutta la rinaturalizzazione anche probabilmente la riqualificazione del rio Melo che è di quei rii che dici c'è un piccolo corso d'acqua in realtà sappiamo bene che anche i piccoli corsi d'acqua oggi come oggi devono essere ben controllati ripuliti e poi l'idea della pista ciclabile sarebbe davvero molto bello tu ci andresti a piedi in ogni caso io ci andrei a piedi tu sei una camminatrice adesso visto che mi hai sollecitato perché sai pallavolo saluto tutti i miei compagni di pallavolo è capitato anche che mi abbiano scelto tra i primi in una squadra mi sono quasi commossa come successo devo dire la mente mi sono commossa perché tu sai che io sono sempre scelta per ultima ma come successo ma perché non perché giustamente e quindi mi sono commossa quando mi hanno chiamato vabbè comunque lì è pallavolo invece sai che vado a camminare si parla monite ognuno si parli no vabbè ma parlo di me perché c'è una cosa apriamo una nuova rubrica volete chiamarci e raccontarci due minuti di fatti vostri fatelo 0541 725 785 la rubrica del cosa avete fatto ieri esatto così fatti vostri facciamoci fatti vostri così è bello non voglio farmi cioè non voglio che voi non penso che nessuno interessi cosa faccio io però ieri insieme alla collega Lucia Renati arriva in redazione questa notizia la guardiamo insieme poi Lucia insomma si occupa di scriverla perché è una nuova incursione una nuova incursione dei Teddy della Pace non so Andrea se vogliamo far vedere anche qualche fotografia perché dopo Rimini e dopo Sant'Arcangelo anche Riccione è stata invasa dai Teddy della Pace sono assolutamente anonimi le persone le persone le autori immagino che siano più di uno insomma che stanno facendo queste azioni azioni per richiamare il valore della pace cosa fanno per chi non ci avesse seguito anche in altre occasioni lasciano dei peluche in giro per le città in questo caso esatto erano 200 a Riccione tra l'altro è stata fatta una scelta particolare perché sono in giro per la città ma anche in alcuni studi medici e questi peluche raccontano una storia raccontano la storia di piccole vittime palestinesi ed israeliane che hanno perso la vita da quel drammatico 7 ottobre in cui è iniziata la guerra queste sono giornate di tregua c'è questo tema degli ostaggi insomma è una situazione che si fa fatica anche solo a raccontare e loro cercano tramite anche questi peluche che magari attirano l'attenzione di un bambino di una mamma l'idea è guardateli se volete potete prenderli portarli da un'altra parte fotografateli c'è un hashtag a cui viene invitato insomma colui che lo trova a mandare una fotografia per creare una sensibilizzazione sappiamo che queste situazioni non cambiano le sorti di questi grandi conflitti però forse ci cambiano e allora perché vi racconto questa cosa perché ieri sapendo che era stato fatto a Riccione vedendo che alcune delle foto che ci sono state inviate da questi autori anonimi di questa campagna di sensibilizzazione erano nella zona centrale andando a camminare come spesso faccio sono passata sul lungomare e tadan Matteo scusa abbiamo un teddy abbiamo un teddy ho trovato un teddy per strada e allora era su una panchina e e questo qui è il nostro teddy allora io aspetta no lo metto qua l'ho portato qua nel senso che chiaramente con la promessa e adesso noi facciamo una foto magari lo mandiamo anche noi all'hashtag perché ci piace pensare che anche Tempo Reale partecipi a questa campagna di sensibilizzazione e poi lo ridissemineremo e quindi lo riporterà a Riccione da qualche parte magari così che lo possa riprendere qualcuno oppure ce lo teniamo Andrea come segno e simbolo di un tempo reale che ti fa per la pace che cosa c'è scritto sul bigliettino solo due bigliettini tra l'altro su quello che ho trovato io l'ho trovato solo questo per cui immagino che gli altri siano stati presi o spostati era tutto bagnato dopo l'ho messo sul termosifone e gli riservano che carino che è allora c'è un primo biglietto giallo che è uguale per tutti i Teddy almeno guardando le foto dove dicono ciao sono Teddy sono qui per raccontare la storia del mio piccolo proprietario perché la sua memoria resti viva leggila e se vuoi portami in un altro luogo della città fai una foto e postala con l'hashtag hashtag Teddy non torna a casa perché tutti conoscano la mia storia e perché nessun altro bambino venga ucciso così cessate il fuoco e questo è il bigliettino giallo insomma che è attaccato al collo del nostro Teddy c'era a fianco ma per terra per cui probabilmente insomma magari qualcuno l'aveva preso comunque era accaduto l'altro bigliettino che è quello che racconta la storia la storia di un bambino in questo caso il bimbo di cui raccontiamo la storia si chiama Ramisha Willy i genitori di Ramisha Willy gli hanno fin da piccolo insegnato a non considerare i palestinesi come nemici Ramisha aveva amici arabi a cui voleva bene è morto a causa dell'attentato terroristico di Hamas il 7 ottobre e quindi questo è il Teddy che abbiamo trovato noi probabilmente era attaccato sulla schiena del nostro Teddy si era staccato era vicino all'acqua così insomma io l'ho preso l'ho portato in trasmissione mi ha fatto piacere trovarne uno e niente volevo condividere con voi questa cosa sperando che magari anche nelle vostre passeggiate secondo me queste concursioni continueranno se trovate un Teddy siate sensibili o anche voi fate una foto e partecipate a questo hashtag quindi noi abbiamo il nostro Teddy per la pace speriamo che possa giungere questo messaggio molto molto lontano attraverso lettere anche noi abbiamo fatto la foto la posteremo si con l'hashtag mi raccomando mi affida a te che sei capace vabbè non è che ci vuole molto però adesso cambiamo argomento invece anche perché tu oggi devi abbandonare questi studi prima perché ti aspettano in uno dei tuoi tanti appuntamenti vado a Faenza vai a Faenza mai più senza parliamo però di un appuntamento che c'è stato nei giorni scorsi di Assoform si che ti ha visto protagonista anche in questo caso ma no ci ho fatto qualche intervista io sono sempre molto felice quando vedo dei ragazzi devo dire la verità dobbiamo vedere cosa ne pensano loro dopo un anno di laboratori formazione e progettazione nei giorni scorsi a Rimini si è svolta la sfida decisiva tra i tre gruppi finalisti al progetto S-Team S-Team sì penso si dica così però è abbastanza oppure Steam oppure STEM perché in realtà c'è il gioco di parole tra S-Team e STEM che sono le materie scientifiche di cui si parla tanto scientifiche tecnologiche che sono promosso da Soform Romagna coinvolto anche una scuola riminese una caroata ed una spagnola obiettivo del progetto un triangolare insomma far crescere la sensibilità soprattutto nelle ragazze verso studi scientifici e tecnologici allora vediamo il servizio servizio che probabilmente sarà nella giornata di lunedì di lunedì eh sì proprio così eh sì caro Matteo ti abbiamo fregato questa volta ti abbiamo hai visto si era già messo comodo dall'altra parte abbiamo teso un trabucchetto al nostro Matteo come dicevano un tracovetto dovrebbe essere a sua forma o comunque a caton ovviamente noi siamo in diretta è tutto deciso vediamo se Matteo trova che cosa potrebbe essere l'ha trovato in un anno Estim Project ha coinvolto circa 350 alunni di terza media italiani croati e spagnoli nei giorni scorsi arrivino in la sfida decisiva tra i tre gruppi finalisti che si sono messi in gioco in un evento di Akheton l'obiettivo del progetto era quello di avvicinare gli studenti in particolare le ragazze alle materie scientifiche e ha visto lavorare fianco a fianco Assoform Romagna un'associazione spagnola che riunisce donne che operano nel settore tecnologico e una scuola croata ha l'obiettivo di introdurre e far sperimentare ai ragazzi le materie STEM cioè le materie tecnico-scientifiche nelle scuole medie con un particolare attenzione alle donne quella che è la nostra sfida di donne imprenditrici è cercare di far assumere sempre più ruoli strategici anche alle donne perché le donne hanno una marcia in più devono cominciare a esplorare il mondo per trovare quale può essere la loro pista From Women's Space Women's Space ha seguito soprattutto la parte di ricerca e la ricerca del perché nella diciamo fascia di età dei 13-14 anni le ragazze tendono a scegliere meno le materie relative non tanto alla STEM in generale ma soprattutto relative alla tecnologia Noi siamo una scuola elementare e una scuola media di Zagabria della Croazia e siamo coinvolti in questo progetto per portare appunto le STEM nel mondo anche delle ragazze che è una cosa che facciamo ogni giorno nella nostra scuola Per noi l'apertura al mondo e in questo caso Spagna Croazia ma appunto il mondo intero diciamo così nel DNA delle scuole Caris Ad imporsi nella sfida colpi di robottini pensati per andare alla scoperta di nuovi pianeti il progetto croato di tecnologia innovativa per raccogliere acqua piovana quello spagnolo è stato il progetto dei ragazzi della Caris Foundation di Rimini poli sotto un sistema high tech per ridurre gli incidenti stradali causati dall'alcol lasciando a piedi chi beve troppo alla fine serata ti viene dato un alcol test lo infili al fianco del poli sotto scannerizza se il risultato è positivo o negativo è stato molto bello è stato anche un bello scambio culturale con le altre nazioni e io mi sono molto divertito da replicare questi ragazzi insomma sono stati loro a vincere tra l'altro i progetti erano tutti molto belli perché quando vedi questi robottini che si muovono fanno delle azioni in questo caso diciamo che i ragazzi italiani hanno puntato molto anche sulla protezione delle persone adesso chiaramente il servizio era molto sintetico ma mi hanno spiegato nel dettaglio tu praticamente hai un sistema per cui tu arrivi in un locale la sera cosa fai? metti le chiavi dell'auto automobile dentro una piccola teca chiusa per aprirsi quindi a fine serata tu dovrai fare un etilometro quindi se risulti non idoneo quindi chiaramente non hai bevuto troppo non si si apre più questa teca e quindi le chiavi non le puoi prendere a quel punto devi chiamare qualcuno che venga a portarti a casa cioè l'idea in sé è quanto mai intelligente polis 8 e quindi ci piace questa comunque devo dire molto belle anche le realizzazioni degli altri due gruppi ragazzi croati e ragazzi spagnoli bravi bravi mi piace questo progetto tu invece volevi parlare di PNRR io volevo parlare di PNRR no io in realtà parto dal dalla provocazione che è arrivata dal parlamentare riminese Andrea Agnassi proprio sul tema del PNRR poi ho visto l'ho visto sulle agenzie nazionali che delle risposte da parte del governo sono arrivate quindi e non dai ho visto che è arrivato il via libera dell'Europa la nuova tranche alla quarta però ho visto che restano le preoccupazioni del presidente del lanci De Caro che dice che anche dopo la cabina di regia di ieri non si sconoscono ancora i criteri oggettivi che il governo ha proposto proprio così diciamo che queste cose che ha detto Agnassi le ha dette prima della cabina di regia in cui appunto ci si aspettava che arrivassero delle delucidazioni perché ricordiamo due giorni fa l'avevamo detto tramite le parole del presidente della provincia Jamil Sale Golvad 307 progetti sul territorio provinciale finanziati con il PNRR o meglio che dovevano essere finanziati dal PNRR 10 miliardi che sono venuti a meno con un governo che ha detto comunque le risorse le troviamo da un'altra parte ci si aspettava che ieri in cabina di regia arrivassero delle risposte Agnassi diciamo che prima di questa cabina di regia ha detto insomma è una situazione abbastanza complicata e ha spiegato un po' quello che avevamo detto ieri come funziona tu fai un bando magari trovi anche una dita poi ad un certo punto ti avevano detto aspettate un attimo perché non ci sono ancora i soldi oppure metti a bilancio questo lavoro ma questo lavoro poi alla fine non si fa e sappiamo che tutto va chiuso in tempi molto brevi e lui diceva un'altra cosa ed è questa la notizia qualora il governo non decidesse insomma di trovare nuove risorse per queste partite noi penso come parlamentari del partito democratico insomma non so questo noi anche chi potesse indicare oltre a lui siamo pronti a sostenere ad accompagnare i comuni che faranno ricorsi anche legali proprio in contrapposizione a queste decisioni quindi abbastanza critico Agnassi poi dalla cabina di regia magari come dice De Caro non è arrivato nulla lui dice che sono arrivati dei soldi dall'Europa e infatti non si sa quali criteri quali siano i criteri oggettivi in base ai quali il governo ha proposto alla commissione europea di togliere dal PNRR tante opere che erano state affidate ai comuni quindi dice non sappiamo neanche quali di queste opere rimarranno nel PNRR e quali e quali no e il governo ha sempre detto che per quelle che usciranno dal PNRR ci sarà la possibilità di intercettare altre tipologie di finanziamento però ancora anche queste tipologie di finanziamenti non sono state rese note quindi serve concretamente capire da dove arrivano i soldi diciamo anche le parole invece che affida questa mattina al Carlino la senatrice Spinelli quindi stiamo parlando di senatrice di Fratelli d'Italia che dice suggerisco all'onorevole Ignasse di informarsi prima di parlare in merito ai fondi del PNRR proprio oggi quindi ieri la commissione europea ha approvato la revisione del piano italiano entro il 2023 l'Italia riceverà circa 102 miliardi di euro quindi più della metà dell'intero PNRR e l'Italia sarà anche l'unico stato membro dell'unione europea ad aver ricevuto il pagamento della quarta rata mi pare perciò che non vi siano le condizioni minime per fare polemica da parte di Ignassi sui fondi per i comuni ieri c'è stato un videomessaggio della Presidente del Consiglio affidato ai social dove appunto ha detto ha dato questo aggiornamento cioè il fatto che l'Italia sia l'unica nazione in Europa ad aver ottenuto già il pagamento della quarta rata c'è chi è ancora fermo alla prima quindi vuol dire che siamo mossi bene perché poi l'Europa se non dai tutte le indicazioni corrette precise rendi contate non è che ti dai soldi così per cui nel piccolo come nel grande entro l'anno l'Italia tra l'altro potrebbe fare richiesta per la quinta rata da 18 miliardi circa bene bisognerà capire se in queste rate che arrivano però rientrano i progetti che erano stati in qualche modo tolti per cui stiamo a vedere non lo so mentre continua a fare discutere forse inizia a fare discutere perché finora era abbastanza passata sotto silenzio la fine del mercato tutelato del gas il 31 dicembre si pensava che ci potessero essere delle nuove proroghe scorsa settimana le abbiamo aggiornato grazie anche a una nota diffusa da Feder Consumatori sul fatto che di fatto queste proroghe non ci saranno non sono state previste tra l'altro fine del mercato tutelato del gas 31 dicembre fine del mercato tutelato dell'energia aprile 2024 le famiglie devono muoversi ma ieri è intervenuto in proposito il ministro Salvini chiedendo al governo un passo indietro cioè di in realtà concedere altro tempo prima della fine del mercato tutelato tra l'altro ho letto alcune notizie in queste ore legate appunto alla fine del mercato tutelato che non lasciano in realtà non danno sensazioni positive perché sono state fatte delle stime e sembra che il 95% delle famiglie è vero che veniamo da un periodo complicato per quanto riguarda le bollette in particolare quelle del riscaldamento ma il 95% delle famiglie che sono passate al mercato libero stia pagando di più ah ecco e questo male male diciamo che non agevola non aiuta a ricerca che è stata realizzata si dice appunto che solo il 5% è riuscito in qualche modo a pagare di meno possiamo chiedere al 5% a chi si è affidato così magari ci dà qualche suggerimento utile sono i dati che arrivano da Arera che è l'autority che si occupava si occuperà fino al 31 dicembre di definire le tariffe per chi è nel mercato tutelato e appunto secondo i dati di Arera relativi a coloro che sono già passati al mercato libero i costi sono decisamente maggiori sia che si opti per il prezzo fisso che per quello variabile un dato in decisa controtendenza rispetto agli anni passati questo insomma per quanto riguarda anche le stime da qui in avanti sappiamo che non è un bel segnale non è un bel segnale e secondo me in un passaggio praticamente obbligato a questo punto non è un bel segnale però qual è il rischio cosa sta accadendo secondo me e parlo per dando una visione assolutamente personale che fino a 1, 2, 3 anni fa il mercato libero doveva incentivare le persone ad uscire dal tutto lato e quindi metteva sul piatto delle tariffe vantaggiose in modo particolare chi andava a fare le tariffe fisse che quindi si è trovato le medesime tariffe anche con l'esplosione delle bollette dell'anno scorso ha avuto dei vantaggi adesso che tutti devono passare ovviamente a fare il prezzo è il mercato libero quindi se tutti cercano il mercato libero se la tira un po' e dice allora infatti bisognerebbe capire se tra le varie aziende perché sono tantissime di mercato libero ci sia tra di loro una sorta di potrei dire una lobby di potere che dice bene a questo punto tanto chi era nel tutelato deve per forza uscire evitiamo di fare prezzi troppo agevolanti perché comunque insomma alla fine lì ci devono venire e quindi con il rischio che non ci siano effettivamente delle buone occasioni delle ottime occasioni oppure invece no oppure davvero mercato libero bisognerebbe che ognuno facesse il suo prezzo magari dando anche più possibilità non lo sappiamo in queste occasioni c'è un grosso difetto di informazione perché in base a alcune statistiche in questo caso quelle di facile.it sembra che il 25% delle famiglie intervistate non sappia se nel mercato libero in quello tutelato e quindi diventa ancora più complicato gestire questo passaggio diciamo che l'informazione sta facendo difetto perché ormai il tempo se effettivamente non ci saranno colpi di scena è prossimo alla scadenza e è vero che non è che il primo gennaio se non hai fatto la scelta ti viene staccato tutto però si entra in una sorta di limbo e nel limbo non si vive così bene perché probabilmente ti verranno definiti ti verrà attribuita una società di gestione in questo caso sorteggiata non so come funzionerà magari ci informeremo anche su questo sicuramente le aziende di mercato tutelato sono meno perché sono quelle che arrivano dalla storia quando c'era solo un mercato tutelato e le persone erano quasi necessitate a rimanere in quella realtà lì poi è arrivato il mercato libero sono arrivate tante altre aziende che gestiscono luce e gas forse la cosa migliore un consiglio molto semplice è in questo momento cercare intanto di capire se eravate già passati al mercato libero in un momento in cui vi hanno fatto un'offerta perché ricordiamo che le aziende di mercato tutelato sono anche aziende di mercato libero c'è da dire che c'è una tutela però perché ci sono 4 milioni e mezzo di famiglie che non passeranno al mercato libero perché hanno al loro interno membri vulnerabili over 75 oppure persone indigenti per i quali resterà in vigore di fatto il mercato con più tutele quindi quello legato anche all'autorità pubblica all'autority vedite ci sono delle quindi cercate di capire qual è la vostra situazione se siete obbligati a fare a prendere una decisione l'ideale a mio avviso è che cerchiate voi una proposta e non invece attendere magari appunto queste persone che magari vi fanno delle offerte ma poi lì per lì potrebbero in qualche modo anche non darvi giusti consigli mettiamola così Andrea cioè nel senso che non è che dobbiamo pensare che tutti coloro che ci chiamano per farci delle offerte ci portino su delle cattive strade però magari non è per noi la scelta migliore quindi muoviamoci proviamo a essere proattivi rispetto a questa cosa diciamo che anche l'autority conferma quello che in sostanza dicevamo prima perché se fino a qualche fino anche al 2021 2022 il mercato libero era più conveniente rispetto a quello tutelato con risparmi che in alcuni casi andavano anche nell'ordine del 20-30% siamo arrivati in una fase di progressiva rinegoziazione dei contratti quelli a prezzo fisso e quindi si prevede in secondo semestre 2023 e poi nel 2024 invece decisamente un cambio di passo probabilmente legato anche al fatto che essendo tutti in qualche modo costretti a passare lì le compagnie si sentono in una situazione diciamo di potere eh sì certo sicuramente come dici avremo modo di approfondire sì cercheremo di darvi anche qualche piccolo consiglio non dirvi qual è l'azienda dove dovete andare perché questo sia mai perché poi ognuno ha i propri consumi ha il proprio modo di gestire la luce il gas quando la utilizza quando non so quando non so metti in azione gli elettrodomestici quanto vive la casa no? perché è diverso chiaramente da una persona o dalla famiglia che stanno tutto il giorno in casa altre invece dove magari a casa ci si sta di meno c'è chi ha bambini piccoli c'è chi sono persone anziane insomma quindi se possiamo andrei bravissimo a trovare le indicazioni cercheremo di darvi qualche valido consiglio io intanto un valido consiglio che vi do se siete appassionati anche di negozi di prossimità di commercio piccolo commercio in particolare di seguire questo pomeriggio in diretta alle 18 e poi in replica alle 21 la nuova puntata di fuori dall'aula dove il focus sarà concentrato proprio sulla situazione non semplice che stanno vivendo gli esercizi di prossimità sono tante le serrande che si abbassano cercheremo di capire insomma qual è il futuro e come si può magari cercare di invertire la china lo faremo con l'assessore delle attività economiche del comune di Rimini Iuri Magrini che è anche assessore al bilancio e anche nel bilancio che il comune di Rimini andrà ad approvare ci sono degli aiuti tra virgolette quello che una volta si chiamava no tax area proprio per le attività di prossimità lo faremo anche con degli esponenti delle associazioni di categoria il presidente provinciale di confcommercio Gian Nindino e il direttore della CNA riminese Davide Ortalli con questi tre ospiti cercheremo di capire un po' di più mentre ospiti questa sera ragazzi non si pettinano le bambole fuori dall'aula ma anche a tempo reale non pettiniamo nessuno non ci pettiniamo neanche noi dove ci sei tu si è molto attivi e molto operativi a voglia a voglia allora tu sei prossima alla dipartita? ah sì adesso qualche minuto ancora posso restare con te davvero quindi allora scegli tu l'argomento di cui vuoi parlare ma allora vorrei dire una cosa perché siccome prima parlavi del fatto che dall'11 dicembre noi entreremo un po' in questo clima natalizio Andrea farà l'albero e poi faremo questa lotteria di Natale mi è venuto in mente pensando l'albero lo vuoi sempre in studio così ce l'abbiamo esatto pensando al messaggio di Mauro che ci salutava ma ci guarda il pomeriggio dobbiamo trovare un modo Andrea inventiamoci un modo per cui possa rimanere un dono anche per chi ci guarda il pomeriggio io la butto lì e poi sentiremo con i nostri tecnici potremmo fare magari il venerdì prima della fine dell'inizio delle festività natalizie che se non sbaglio il venerdì 22 sì potremmo fare anche la diretta pomeridiana perché no dalle 2 alle 3 dalle 2 alle 3 sono regali solo regali e belle notizie sono regali e belle notizie però anche nelle altre magari appunto dice ma come dopo li regalate sempre tutti la mattina anche con gli spettacoli succede questo anche questa settimana forse regaleremo dei begli spettacoli e allora magari potremmo tenere una finestra temporale anche pomeridiana per regalare delle cose o dei biglietti o quello che sarà anche a chi ci segue in replica guarda ci arriva un consiglio da Massimo che ci ha dato il buongiorno poco fa dato che siamo cittadini ed imprese appartenenti all'Unione Europea dovremmo essere liberi di acquistare energia da società totalmente estere non estero vestite negli stati limitrofi Francia e Germania ad esempio l'energia costa molto meno eh sì lo sappiamo dei periodi bui buissimi del caro energia effettivamente c'erano stati in cui grazie anche ai loro contatti diciamo nella capacità di essere o più autosufficienti o avere migliori contatti per prendere gas in modo particolare da altri paesi in quella situazione internazionale così complessa come abbiamo vissuto e come stiamo vivendo beh quest'anno sta andando meglio però diciamo la bassa voce perché è appena iniziato il periodo freddo in cui ci serve l'energia vogliamo dare delle buone notizie c'è una riapertura che farà felice il popolo della notte o anche quelli che ci andavano in discoteca una volta perché scusa mi arriva un messaggio mi arriva un messaggio come prima dicevi che puoi rimanere nel mercato tutelato chi ha delle persone anziane a casa messaggio solidarietà adottate un anziano e rimarrete tutelati però mi sembra possiamo fare la pubblicità perché molti anziani potrebbero essere contenti magari una famiglia giovane al loro fianco ci piace questo messaggio grazie noi siamo una redazione anziana dici che ci faranno degli sconti per le bollette può darsi comunque se avete altri consigli come quelli di Massimo e di quest'amico che ci ha appena scritto 337-511-336 bene ovviamente noi cercheremo di approfondire il tema nelle prossime settimane magari insomma prima che inizino effettivamente le vacanze natalizie quando anche noi abbandoneremo questo luogo sì faremo anche una piccola pausa tu non volevi farla però ti hanno costretto sì ma va bene ci sta che mi costringiate ieri è arrivata la notizia della riapertura della storica discoteca Blow Up di Bella Riva che riaccende luci e console nel 2024 ancora non c'è una data precisa però c'è chi la la gestirà che ha deciso di gettarsi nell'impresa dell'imprenditore Alfredo Palmieri che al Blow Up ha iniziato la sua carriera nelle discoteche della Riviera lavorando per un decennio come pierre poi si è trasferito sulle discoteche della collina di Riccione adesso ha deciso di rilanciarsi in questa sfida ci sono passato davanti qualche giorno fa nella mia corsetta della domenica dove è il Blow Up? siamo nella zona di Bella Riva sui viali zona viali un po' all'interno e tra l'altro appunto come vedete io ho frequentato tutte le discoteche del territorio io so lì abbiamo fatto alcune feste di istituto quelle di Natale feste di istituto dello Serpieri si facevano spesso appunto al Blow Up che comunque in genere era una realtà che viveva d'estate prevalentemente almeno nella sua fase finale lavorava molto d'estate essendo anche in zona alberghi l'avevo visto un po' messa male esternamente evidentemente perché ci sono dei lavori attualmente in corso anche relativi all'ingresso tra l'altro dice Palmieri che il Blow Up però non sarà solo per i turisti ma anche per i riminesi con un'apertura insomma 12 mesi l'anno bene è una locale che torna a vivere tra l'altro i locali vicino al mare vicino alla spiaggia ma non sulla spiaggia quindi può essere un'ulteriore alternativa solitamente negli ultimi anni avevamo detto discoteche in collina poi divertimento al mare questo unisce un po' i due siamo vicini al mare ma siamo una discoteca interessante allora arriva una nota dai carabinieri di Rimini del nucleo dell'ispettorato del lavoro adicato Aurora esatto i carabinieri del nucleo dell'ispettorato del lavoro di Rimini a seguito di attività e analisi dei dati relativi alle compagnie di Rimini Riccione Nova Feltra e della tenenza di Cattolica hanno eseguito una serie di attività ispettiva l'esito dei controlli svolti ha consentito di individuare guarda un po' te lavoratori non registrati in nero pagamenti in contante a lavoratori dipendenti ai fini della non tracciabilità delle retribuzioni infedeli registrazioni sul libro unico del lavoro di orari di lavoro mancato versamento contributivo inadempienze in materia di sicurezza eccetera 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 quindi una serie di irregolarità che hanno portato nell'ultimo periodo dieci ditte controllate e tre di queste 30% hanno visto un provvedimento sospensivo dell'attività imprenditoriale entriamo nel dettaglio a Rimini si parla di un'attività di ristorazione gestita da un imprenditore italiano in cui è stato riscontrato l'impiego di un lavoratore in nero di nazionalità italiana e il pagamento della retribuzione non tracciabile ai fini fiscali in Valconca genericamente sospesa l'attività di un'attività di ristorazione che aveva quattro lavoratori in nero sia italiani che dell'est Europa anche questa gestita comunque da imprenditori italiani penso sia importante anche dire la nazionalità di chi la gestisce per evitare generalizzazione perché noi sappiamo i commenti ma chissà chi erano imprenditori italiani anche questo Cattolica è stato invece sospesa l'attività di un cantire edile gestito da imprenditore italiano in cui venivano riscontrate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro complessivamente anche 50 mila euro di sanzioni amministrative e queste tre realtà Rimini Valconca e Cattolica vedono la loro attività sospesa una nota appena arrivata fresca fresca data in tempo reale e adesso ti do modo di abbandonare questo studio allora se io ti porto a Mondaino però quindi dopo ti lascio con lo sport da solo ma tu ne sai aveva voglia insomma Rimini Chieri si era vinto anche a Cesena per cui avrai cose belle di cui raccontare e invece io ti porto a Mondaino perché ci sono state due domeniche quelle appena trascorse che sono state dedicate al formaggio di fossa ti piace? sì tartufo? no non tanto? no ha degli effetti deleteri sul mio organismo ah va bene ma sono io e poi c'è Venere Venere va sempre bene la bellezza quindi Fossa Tartuffe Venere un po' il titolo di questa mostra mercato che è andata in scena nel cuore di Mondaino devi sapere Mondaino è insomma tra la Valconca proprio uno dei territori dove il tartufo è più pregiato ma tu sei un'esperta? no però ho imparato ascoltando questa intervista e vedendo questo servizio ne sapremo qualcosa in più domani torno? domani torno si si va da Faenza e torno accidenti il tuber magnatum il tartufo bianco pregiato protagonista insieme al formaggio di fossa della mostra mercato Fossa Tartuffe Venere che per due domeniche ha animato le piazze e le vie del castello di Mondaino l'olfatto e le papille si sono inebriate tra bancarelle e degustazioni ma c'è stata anche la possibilità di visitare i musei il paleontologico e quello delle maioliche e di ammirare le opere dei maestri artigiani il tutto mentre nel borgo risuonava la musica dei gruppi popolari che invitavano a scatenarsi in un boogie boogie nasce nei primi anni 2000 grazie alla sensibilizzazione della provincia di Rimini per riscoprire il tartufo bianco che da noi c'è in maniera importante sono nate anche delle tartufaie abbiamo un gruppo di tartufai che ha anche due riserve private e quindi è un discorso molto sviluppato naturalmente abbinato al formaggio di fossa è un abbinamento perfetto da qui l'idea di creare questo evento che ha sempre avuto più successo negli anni gli abbiamo voluto dare un taglio comunque storico attraverso le musiche anche le scenografie e le ambientazioni negli anni 50 sicuramente è una bella iniziativa soprattutto per tutti gli appassionati di queste prelibatezze culinarie adesso è tutto solo soletto mi occupo di sport ma oggi è facile è facile perché si deve parlare di una bella vittoria ieri da parte del Rimini che era impegnato negli ottavi di Coppa Italia col Cesena un Rimini che aveva il dente avvelenato dopo il 5 a 2 subito in campionato ma il Rimini di adesso è un Rimini diverso e soprattutto diciamo che tra le due squadre si vedeva che c'era una che teneva un pochino di più a questo appuntamento rispetto all'altra il Cesena sappiamo in vetta al campionato il Rimini aveva appunto una brutta sconfitta da far dimenticare ai propri tifosi tifosi che tra l'altro meritano un plauso erano oltre 800 quelli che hanno seguito i biancorossi in un infrasettimanale serale in quel di Cesena ma vediamo tutti i dettagli nel servizio di Roberto Bonfantini è un servizio musicale dovremmo avere anche il servizio il stadio Moedino a Manustri a 58 giorni di distanza da quel primo ottobre che vede i bianconeri superare i biancorossi con un arroboante 5 a 2 in quasi due mesi il Rimini ha cambiato marcia sono 7 i risultati utili di fila tra campionato e coppa mentre il Cesena ha continuato il suo cammino vincente striscia aperta di 5 vittorie consecutive e un solo cappò in campionato arrivato alla prima giornata ad Olbia in palo c'è il passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia di Serie C al nono minuto lancio di Gigli sponda di testa di Cernigoi Piacentini controlla poi rinviadosso Ubaldi il rimpallo favorisce Jacoponi che scaraventa in rete proprio sotto la curva ferrovia occupata dei tifosi biancorossi Rimini 1 Cesena 0 al tredicesimo Meghelaitis perde il carro che lascia sfilare il pallone se lo sistema e spara di destro sfera a fondo campo al diciottesimo Berti avvia l'azione servendo Gunseie che allarga per Giovannini il numero 30 avanza e imbecca Berti diagonale largo di poco al terzo della ripresa Cernigoi controlla di destro e calce di sinistro sfera a lato di un niente al settimo bel dialogo tra Leoncini e Ubaldi l'attaccante biancorosso riceve in aria il passaggio di ritorno e spedisce a lato al dodicesimo Nannelli per Piacentini che calcia dalla distanza pallone lontano dal bersaglio al diciannovesimo Giovannini a sinistra per Nannelli che mette al centro Pierossi impatta di testa sfera a lato al ventiduesimo cross di Chiarello stanga lontana di testa ancora Chiarello controlla e appoggia per Bumbu il cui destro sfila lato al trentunesimo Nannelli per Bumbu che pesca in aria Chiarello controlla e tiro da pochi passi ma Colombi c'è e para al trentacinquesimo altro tentativo dalla distanza di Bumbu anche questa volta la mira è imprecisa al quarantesimo Leoncini sradica il pallone a Bumbu Marchesi serve di prima la mesta che parte e palla al piede dal cerchio della metà campo e una volta al limite dell'area calce di sinistro nell'angolino non lasciando scampo a Siano Cesena 0 Rimini 2 esplode la festa con tutta la panchina biancorossa finisce così ai quarti di finale ci va il Rimini che si giocherà l'accesso alla semifinale il 13 dicembre in casa del Vicenza sarà solo Coppa ma quanto è lontano quel primo ottobre è vero che è solo Coppa è vero anche che le vittorie danno fiducia è una vittoria aiuta a continuare a vincere il Rimini lo sta facendo da un po' di tempo a questa parte invertendo decisamente la china di un inizio veramente difficoltoso di campionato e sentiamo le parole del dopogara di Mistre Troise tra l'altro proprio con l'arrivo di Troise è arrivata anche questa importante inversione di tendenza nei risultati bella per tanti aspetti chiaramente principalmente perché come dicevo ieri era un derby dove è una storia a sé al di là di quella che può essere la posta in pario perché la prima motivazione che hanno portato in campo è quella di insomma regalare alla città una bella partita che al di là del risultato poi l'hanno fatto con in un primo tempo è emersa tanta motivazione per chiuderla sull'1-0 il secondo tempo secondo me è stata anche bella in termini di sviluppi perché abbiamo creato tante occasioni e potevamo insomma andare sul doppio vantaggio anche prima bella perché comunque ha avuto l'opportunità di dare possibilità di giocare a Rosini a Stanga che insomma si sono fatti trovare pronti ma per citarne un paio nonostante poi qualche difficoltà è emersa nelle ultime 24 ore è nata ma lo spirito lo spirito di un gruppo che continua a crescere è emerso nei 95 minuti a differenza dell'ultimo quarto d'ora contro la Fermana ecco siamo ritornati su quei binari che ci devono permettere poi di dare continuità in una stagione ancora lunga perché adesso ci godiamo fino a stasera il derby e già da domani c'è da pensare a un'altra partita molto importante come quella di domenica contro la Vispesaro e già perché la Rimini è atteso da un'altra partita molto sentita almeno per quanto riguarda anche la rivalità tra tifoserie che è la sfida appunto con la Vispesaro tra l'altro due squadre che hanno una situazione di classifica e la Rimini che si sta avvicinando alla zona playoff lasciando alle spalle quella pericolante di play out per non dire della zona retrocessione dove la Fermana superata nell'ultimo incontro è un po' fanalino di coda solitario e anche piuttosto distanziato diciamo che i biancorossi iniziano a incanalare questa stagione che è ancora molto lunga nella direzione giusta e vincere a Cesena sicuramente è quella spinta morale che aiuterà a continuare a fare bene almeno questo è l'auspicio ovviamente bisogna continuare a lavorare come ha detto mister Truise bene i festeggiamenti bene essere soddisfatti della prestazione però bisogna continuare a mantenere la testa sul campo perché ancora tutto può accadere alle 10 e 26 minuti dopo aver parlato anche con grande dovizia di particolari e competenza vista l'assenza di Simona Molazzani di sport noi siamo arrivati in conclusione con questo appuntamento con Tempo Reale che ritorna comunque puntuale domattina intorno alle 9 tra pochissimo arrivano Max Alberici e Matteo Monaretto con Faccio Cose Vedo Gente vi ricordo anche l'appuntamento con Fuori dall'Aula si parlerà di crisi del commercio questo pomeriggio in diretta alle 18 tra l'altro se volete intervenire interagire il 337-511-336 è sempre attivo ed operativo per le vostre sollecitazioni oppure la replica di Fuori dall'Aula alle 21 in prima serata grazie per essere stati con noi ci ritroviamo domani Tempo Reale l'informazione in diretta della provincia di Rimini